prima puntata per la nuova edizione di back to school ecco come sono andate le prove di pierpaolo pretelli e solei sorge questa sera mercoledì 5 aprile è andata in in onda la prima puntata della nuova edizione di back to school lo show di italia uno condotto da federica panicucci accompagnata di gianluca scintilla fubelli nel corso delle puntate ci saranno 30 personaggi del mondo dello spettacolo dovranno sottoporsi nuovamente all'esame di quinta elementare nel primo appuntamento di quest'edizione i cosiddetti ripetenti saranno michele cucuzza genny denucci valeria marini pierpaolo pretelli solei sorge e walter zenga questi ultimi saranno prima preparati da piccoli insegnanti e poi in studio verranno interrogati in un'aula magna prima da un professore in particolare sulla sua materia di studio e poi da una commissione che deciderà se promuoverli o rimandarli alla prossima puntata in collegamento anche giulia salemi per sostenere pierpaolo pretelli che è stato abbinato ad irene una delle maestrine più severe dopo il duro studio fatto con la bambina l'ex vippone è stato sottoposto ad un'interrogazione di inglese presentato come il fidanzato di giulia salemi la professoressa greve ha deciso di chiederle di tradurre i presunti invitati alle future nozze con la conduttrice ho sentito che lei è prossimo alle nozze giusto ha detto la maestra al che pretelli ha risposto prossimo alle nozze è uscita una notizia di cui non mi ero accorto dopodiché via alle domande l'ex velino ha dovuto riconoscere gli invitati al suo cerimonio e sposarli al numero designato del tavolo al di là di qualche titubanza il volto di tale e quale show è riuscito a cavarsela almeno fino a quando non ha dovuto tradurre il termine lover ovvero amante pierpaolo pensando si trattasse della sposa l'ha fatta sedere al suo fianco scatenando l'ironica ira di giulia